Ben ritrovati e in questa occasione incontriamo fra le altre giovani celebrità del doppiaggio italiano Nanni Baldini. Ciao Nanni. Ciao a tutti. Beh, cominciare quindi con la prima domanda. Quando e come hai iniziato a lavorare come doppiatore? È una domanda non facile perché io ho il mio primo contributo, quindi la prima lavorazione che ho fatto, avevo tre anni e quindi se tu mi dici precisamente, mi chiedi precisamente il ricordo, non ce l'ho. Però insomma ho cominciato molto piccolo, sono fratello d'arte, non figlio, nel senso che i miei fratelli più grandi, Oresteri ed Antonella, già facevano questo lavoro e quindi io sono nato all'ombra dell'Eggio, se posso usare questo eufemismo, nel senso che comunque mia madre accompagnava i miei fratelli col pancione, dentro c'ero io e già giravo per le sale, quindi diciamo che sono inciampato nel doppiaggio. Quando ho cominciato a capire qualcosa ho scoperto anche che mi piaceva, ma era già tardi, avevo già... Avevo già imparato tutto, insomma dal punto di vista comunque tecnico se vuoi, perché sai i bambini sono spugne e quindi fanno sempre presto a imparare. Avevo una bella formazione solida, insomma. Sì, incosciente ma solida, assolutamente sì. Preferisci doppiare film o cartoni animati? Preferisco doppiare cose belle, nel senso che i cartoni animati poi ormai al giorno d'oggi sono arrivati a dei livelli meravigliosi, io spesso mi incanto e trovo che il livello a cui si arriva dei cartoni sia ormai meraviglioso, pari al film. Quindi la domanda è difficile, nel senso che mi piace doppiare delle cose ben fatte, delle cose belle, delle cose che mi appassionino. No, sinceramente non riesco a darti una risposta precisa, mi piace fare sia i film che i cartoni. Sia l'uno che l'altro. Se di serie si parla, forse tenderei più a live action, diciamo, insomma, non ai cartoni a livello seriale. Poi se ovviamente la serie diventa i Griffin, è ovvio che si parla di un altro tipo di cosa, quindi forse i pre-scolari mi divertono meno. Ok, mettiamola così. Però poi credo che in ogni cosa, a meno che non sia veramente brutta, oggettivamente brutta da tutti i lati, devi sempre cercare di trovare il lato positivo, devi sempre cercare di trovare dove andare a scavare, la cosa in più che puoi dare, la cosa in più da rubare, perché poi, sai, in realtà si tratta anche di restituire, soprattutto, più che di dare qualcosa in più. Si tratta di restituire la volontà dell'originale, insomma. Hai un personaggio preferito di molti, insomma, che hai interpretato fino ad ora? Beh, trovarne uno in assoluto ovviamente non è facile, nel senso che ce ne sono diversi preferiti. Ci sono quelli che ti danno più notorietà, che ovviamente è quello che tutti sappiamo, il ciuchino di Shrek, o il meraviglioso Stevie dei Griffin, ci sono quelli che ti danno più notorietà e che comunque in questi due casi che ti ho citato sono sicuramente delle cose molto divertenti. Poi ci sono quelli che magari ami anche per cose tue, come per esempio il protagonista di Angela, un film di Luc Besson, molto particolare, in cui magari ti ci rispecchi di più, magari ti sei divertito tu di più a farlo. Trovare un personaggio in assoluto, non lo so, ci sono quelli a cui sono più legato. Per esempio uno che per me è stato molto importante è stato il DJ pazzo del Quinto Elemento. Perché? Perché all'epoca io facevo sì, facevo anche già i primi attori, però non mi era mai capitato di cimentarmi con un carattere spinto come quello, che poi mi ha aperto le porte per tante altre cose. E infatti poi mi ha portato a Chris Rock e poi mi ha portato anche appunto al ciuchino. Questo per esempio è un personaggio che mi viene da pensare spesso, perché comunque è quello che ha aperto alcune cose. Ti posso dire quelli a cui non sono, affezionato? Come vuoi. No, no, quello che voglio dire è che però in alcuni casi può succedere che un bellissimo personaggio, come appunto ricito il somarello di qui sopra, che è meraviglioso e molto divertente. A volte ci può essere la controindicazione del fatto che poi le persone ti possono un po' etichettare e quindi magari sei relegato a un certo tipo di ruoli. Questo poi sei tu a dover rompere queste catene e a dimostrare il contrario. Però alla fine, alla luce di tutto questo, c'è da dire che comunque i caratteri sono quelli che mi hanno dato forse più soddisfazione a livello professionale. Poi ti ripeto, io ho un animo particolare, mi sento un po' rigoletto, cioè sono un buffone ma dentro in realtà ho il sacro fuoco che brucia. E quindi ecco, te ne ho detti quattro, a trovarne uno è difficile. No, va bene, sono benissimo. Penso anche a delle lavorazioni in cui mi sono molto divertito, come per esempio quella di Scrubs, che abbiamo fatto tutti insieme e non in colonna separata. Per chi non sapesse che cosa vuol dire, ero a Leggio insieme ai miei colleghi, perché spesso invece succede che a Leggio andiamo da soli e quindi incidiamo soltanto la nostra parte, poi andiamo via, arriva il nostro collega e incide la sua parte. Questo ovviamente è molto più operativo, riesce a razionalizzare meglio il lavoro, però ai fini sia artistici che sociali anche a livello umano ovviamente crea dei problemi. E mi ricordo invece in Scrubs, per esempio, con il mio amico e collega Quarta, ma poi c'era anche Ilaria Latini e Chiara Colizzi, ci siamo divertiti non poco proprio nella lavorazione, a prescindere dal fatto che la serie fosse geniale e molto carina e ben realizzata e il doppiaggio è venuto anche bene, ma a prescindere da questo c'era proprio un piacere nella frequentazione della sala. Quale lingua secondo te è la più semplice da approcciare a doppiaggio? Allora, cominciamo col dire che la più difficile è l'italiano, nel senso che quando devi andare a doppiare dei film italiani, quindi con attori che hanno già recitato in italiano, diventa veramente problematico. Sembrerebbe paradossale? Sembrerebbe paradossale, in realtà spesso avere i ritmi degli attori di presa diretta non è facile, perché sai loro usano un modus recitandi, se mi passi la locuzione, usano un modo di recitare un po' particolare, che è quello del buttato via, noi invece ci attacchiamo di più a un tipo di recitazione più antica, che non voglio chiamare aulica, però che comunque deriva dalla vecchia recitazione dei vecchi attori, neanche troppo vecchi, parlo anche degli sceneggiati di Bolchi o di Maiano, per cui noi abbiamo un modo di recitare un po' più teatrale, se vuoi. Ora non voglio andare troppo in là, non voglio spingermi troppo oltre, però quando noi parliamo si capiscono le parole, si capisce bene il tipo di intenzione che vogliamo dare, sappiamo che cos'è l'uso del timbro o del fiato, sappiamo cos'è il diaframma, conosciamo l'uso del microfono, cioè ci sono degli step tecnici che per fare il doppiaggio tu devi comunque avere in background, devi conoscere, che spesso invece nella presa diretta vengono saltati, diciamo, e quindi risultare, soprattutto in una lavorazione dove tu vai ad integrarti ad altri attori che rimangono in presa diretta, riuscire ad avere un suono che possa collimare con quello che poi sarà il totale, insomma, che vada a collimare con quello della presa diretta vera e propria, non è mai semplicissimo. Anche per discorsi tecnici di presa, nel senso che loro in presa diretta usano dei microfoni diversi da quelli che usiamo noi al doppiaggio, ma proprio per un discorso di emissione e di scansione delle parole, di dizione anche. Quindi questa, abbiamo detto, è la lingua più difficile, ma la domanda era un'altra, e ti dirò che è l'inglese, ma soltanto per un motivo di uso continuo, nel senso che sin da piccolo io ho nelle orecchie la cuffia con l'originale inglese. E hai fatto più in pratica con quello, insomma. Esattamente, la maggior parte dei film che noi doppiamo sono comunque di lingua anglosassone, sono o inglesi o americani soprattutto, ed è quella a cui siamo più abituati. Tra l'altro c'è anche un problema tecnico, è quello che per esempio nello spagnolo loro articolano tantissimo, quindi il problema di adattamento è anche un po' più complesso. Il francese io non lo capisco proprio, per cui ho molti problemi proprio a seguire l'originale. Ma non soltanto dei problemi tecnici, anche perché comunque ormai, dopo tanti anni, conosco meglio la recitazione inglese. Quindi capisco meglio le loro intenzioni, perché poi alla fine di quello parliamo. Come ho detto prima, è vero, hai bisogno di tante basi tecniche, poi però devi mettere il tuo. È vero, la tecnica serve assolutamente per tirar fuori quello che tu hai dentro, altrimenti non ce la faresti senza la tecnica. Quindi la tecnica è importantissima. Poi però, lì si vede la tua nobilitate, insomma. Quando tu hai appreso come si cambiano le marce, puoi cominciare a guardare il panorama. Però non devi più pensarci a come si cambiano le marce.